No, non credo, non credo perché ci vivo lì da un numero irraccontabile di anni e ci vivo bene, è la mia dimensione ed è anche per questo che magari il mio raggio di azione fra virgolette artistico è limitato geograficamente, nel senso che io tendo a voler raccontare le cose che conosco bene e quindi, per essere il più specifico che posso, io la relazione è quello lì.